Stiamo assistendo a uno spettacolo oggettivamente surreale. Il fatto di aver avuto la maggioranza e di avere il diritto e dovere di governare il Paese non autorizza 5 Stelle e Lega a sfasciare l'economia del Paese sulla pelle dei cittadini, non le autorizza a litigare di continuo, non le autorizza a credere che i soldi si trovino sotto i cavoli. Si assumono la responsabilità di aver fatto delle promesse irrealizzabili ai cittadini e di non poter più mantenerle e la smettano di offrire questo spettacolo indecoroso. Grazie Grazie